Musica 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 deli gossip tv è su e di eusia 4 e mammo yina affiche a qua e kodibro niano e a sign abba na yeko social media e non so nafe yako akobo e mkomo kakra ewo eko enun senia mekan ye last year umono before se vedi christmas mekanja osa open onama one channel ebema o politis e ye 2024 e mondia xeyen pipseyen ndis e ye deli gossip tv e na mekan for e di amon mekan so mekan subscribe to your youtube channel nafez wa laike video yi e di amame e nwè chi nwè a share di amame ufè enyebi akrena wde o kommenter so ewo video yi wun ade abba e msafon yeko social media anoswadi ane yeko mpp4 aswe ye na ye nina ye nina ye nimi se last week in omo ena urua ane din e de e si e du enketia ah wano e ye dodo anafere general moskitu ah chaswe wye general secretary e nima mp mdc amoyoko wani insembi ebetru ibi a se ah amon fobi e kase omu mbo nanadu abasom ibi se e kwaya papano afasom abidi o may no so ayye tutuye di amon omayikana e ade a se nanadu ayye adye yi pa yese selensi ayye adye nenu ena jina moskitu siedu kitia e se ah wye din zine e so onono o jina bebi ebo nanadu abasom e lipa opetumi lipa opet presidenta okungana fwo ansana obabe ye president ehye dengye ena onon e se edun kitia ane ekonjinabe ebi ekonbo nanabasom nanay nyadi e se gana fo ebe nanabasom nemom e sachraye e adye e se eba mpp ana se eba edye ama eye mbc ama yukora 20 24 yi omu ebidi inkonim ewo eye mpp ama yukon so nanon after se edun kitia disansi mwye ndibetru janon enay mpp mp gores 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 ebidi eye e se edun kitia se adinti eno yoye so okasa sa edif se selen si nanan adidanko yukon ni pa ansan na wabab di president ewo omay gana mwansi ene ebo si anfo mpp gores yon omatutubi edun kitia ye pa enye asem ketua omat chere edun kitia enafis yon domani mahama ase eye pa yen koti ee saman mp pono enafis edun kitia edith yane embra edun edun may po edun pa po we be kasa mo you are not smart mo 16 i remember you are not smart that is why you are telling him that you are laying off workers meanwhile they were laying off workers as the result of your incompetence for four to five years and then russia you can go Obama you want to kwa me you know kwa 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 Per il mio uno è normale, per il mio uno è difficile, non è un pensiero, ma non è un pensiero. se Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 no 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 come da lì Grazie a tutti. ma se analitè ai corsi nadeo conanù credino conosce aspetta direi ospiletri torri a mamma non 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 se si 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.